Una doverosa precisazione che tutto quello che si dirà è imputabile a me, essendo una conferenza stampa mia, quindi di non per forza da far riferimento o imputare alla società. Detto questo, ormai è fatto pubblico che l'Amatori non è stata ammessa al campionato di A2, quindi con grosso dispiacere, pur non avendo ancora ricevuto le motivazioni, ma ci dobbiamo attenere a quello che ha stabilito la federazione. Non è stato fatto, non c'è stata intenzione di fare ricorso e quindi questa è la situazione, nuda e cruda com'è. Probabilmente questi dieci anni di dirigenza con dei risultati eccezionali, sicuramente borderline rispetto a quello che la piazza ha dato e ha meritato, non hanno fornito nessun elemento di stima, nessuna particella che avvalorasse almeno di voler aspettare le motivazioni ed hanno soltanto motivato una campagna mediatica ostile. Quindi questo mio malessere sarà difficilmente digeribile, allo Stato non lo è, sono assolutamente quanto meno arrabbiato. Accetto assolutamente la decisione della federazione perché le motivazioni mi sono state spiegate, giustamente le avevo anche verificate e quindi c'era ben poco da fare. Per il resto oggettivamente ricevo indietro molto poco, ho sentito dire di famiglie rovinate, di carriere rovinate, ho sentito parlare di tifosi arrabbiati, di tifosi che hanno disperso i loro sacrifici, ho sentito dire di tutto, sono stato tra virgolette col sorriso ingiuriato per strada almeno due volte, per fortuna da persone anziane e sinceramente non me lo meritavo. Questo mi invita a riflettere sul presente, sul futuro e sostanzialmente mi prendo le colpe perché evidentemente non ho saputo mostrare all'esterno la passione e l'amore che ho destinato a questa avventura. Presidente, ora l'amatori che campionato farà? Si era parlato della possibilità di una wildcard in Serie B oppure il campionato di promozione? Non mi interessa regalare, se non a pochi, qualcosa che in molti non meritano. Per quello che riguarda il campionato di promozione, io ho vinto la 2, volevo fare la 2, qualsiasi altro campionato non mi interessa. Allo Stato un campionato giovanile. Allo Stato un campionato giovanile.